Questa esposizione fotografica con cento fotografie nasce per i cento anni dalla nascita di Franco Basaglia dal Maniconio ad Acura ed è all'interno del Festival della Salute Mentale Romance per l'intusione sociale contro i pregiudizi. Le ragioni sono semplici, cioè noi vogliamo testimoniare attraverso le immagini quello che è stata l'epoca manicomiale e quello che è stato il dopo manicomio, il fatto che stanno le stesse persone che prima erano internate con neanche i loro vestiti, le loro scarpe e con una vita azzerata dal punto di vista delle relazioni e della qualità al dopo manicomio e ci stanno anche foto con altri vestiti, con altri visi ben più sorridenti. Questo soprattutto è rivolto alle giovani generazioni perché non hanno conosciuto l'epoca manicomiale e non sanno l'opera di Franco Basaglia che non è stata solo quella di chiudere i manicomi e di dire che l'ha presa in carico delle persone con disturbi mentali nel territorio ma soprattutto ha ridato dignità di persona a chi soffre di disturbi mentali e ha riconsegnato e ridato i diritti di cittadinanza.